Benvenuti in questa nuova puntata di Deepen, io sono Zap, oggi siamo in live su Deepen Scienza, oggi è ovviamente festa, siamo in clima natalizio e come dicevo prima su Twitch lo potete notare dalla mia rennina luminosa che sto indicando in questo momento con tantissimo orgoglio che va insomma a dare questo clima natalizio oltre al mio golfino imbarazzante. Avevo in mente di mettere anche un bel cappello alla Babbo Natale, ma ho deciso che la dignità era più importante, quindi colgo l'occasione per raccontarvi, per dirvi che siamo in live anche su Twitch e che se avete un abbonamento a Amazon Prime potete iscrivervi e abbonarvi gratuitamente al nostro canale di Twitch dove potete vedere le nostre belle faccione. Mentre facciamo la live, live che verrà poi ricaricata in un secondo momento su YouTube per chi volesse fosse interessato insomma alla parte video del nostro podcast dove appunto su YouTube carichiamo tutte le repliche delle nostre puntate e siamo in live ovviamente anche su Spreaker dove siamo diventati partner e quindi se volete sostenerci venite a seguirci in live e insomma se volete potete lasciare anche una fantastica recensione su Apple Podcast che ci dà sempre una grossa mano e poi potete fare donazioni, iscriverci in chat, seguirci su Instagram insomma avete tante cose divertenti da fare per darci una mano a crescere nel mondo dei podcast. Oggi proseguiamo sulla strada di ripenscienza, facciamo una puntata molto improvvisata, io infatti oggi non ho il mio consueto iPad con degli appunti perché non ho appunti, quindi andiamo proprio a braccio perché volevo fare una puntata un po' più leggera anche perché in questo periodo insomma sono in fase di studio di esami vecchi che quindi non mi stanno assolutamente stimolando alla ricerca e insomma le novità da portarvi al podcast quindi purtroppo o per fortuna per voi insomma ho poche cose da raccontarvi al momento ma in verità questo non è vero perché in questa puntata ho un sacco di cose da raccontarvi molto importanti nel senso che ci sono delle svolte insomma in queste ultime due settimane sono stati degli eventi nel mondo della medicina che non si sono mai visti nella storia della medicina quindi questo chiaramente passa in sordina perché insomma il mondo della medicina della scienza è un po' una nicchia di pochi ma sta veramente per cambiare tutto cioè vi racconterò a breve una notizia che probabilmente non vi sconvolgerà perché ovviamente non fate parte di questo mondo insomma per quelli di voi che non ne fanno parte ma per altri di voi invece sarà appunto una notizia che vi farà cadere dalla sedia vi volevo dire altre cose sì che insomma questa settimana poi anzi le scorse settimane ci sono state delle novità importanti a proposito del covid due principalmente una è la variante omicron che sta si sta facendo strada e parleremo un po' di questa variante omicron non nel dettaglio ma quanto più per mettere un punto rispetto alle cose che sono state dette nelle giornali nei telegiornali in questi giorni e poi ci sono delle novità importanti anche rispetto ai farmaci di cui abbiamo parlato nelle altre puntate quindi insomma in questa in questo episodio andiamo a fare il punto della situazione di tanti argomenti che avevo aperto in puntate scorse che oggi voglio insomma un po' concludere oltretutto questa settimana mi è arrivato un messaggio su facebook importante prima su instagram e poi su facebook di una persona che mi segue riccardo che ringrazio per il lungo commento che mi ha mandato e su alcune riflessioni che abbiamo fatto insieme rispetto al podcast di pen scienza e quindi insomma chiedo anche a voi di darmi la vostra opinione rispetto a quello che vi racconterò quindi cominciamo perché il piatto è ricco e voglio fare una puntata appunto molto breve questo mercoledì in realtà perché ieri non avevo assolutamente voglia di fare la puntata quindi abbiamo spostato a mercoledì e oggi iniziamo da l'intelligenza artificiale sapete che qualche settimana fa abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale di google e delle scoperte poi quella con quell'episodio che partiva da un da un articolo delle scienze che mi aveva aperto un mondo che sostanzialmente non conoscevo o meglio che conoscevo ma che non avevo mai approfondito rispetto alle proteine quindi abbiamo fatto diverse puntate a proposito di questo argomento e vi suggerisco di andarle recuperare perché sono molto molto interessanti e raccontano anche un po' la storia di alcune delle malattie più più diffuse e anche più complesse della nostra epoca storica quindi andate a recuperarle fondamentale per chi non avesse sentito quelle puntate faccio un brevissimissimo recap ovvero google ha creato insieme a ovviamente dei ricercatori in campo scientifico in campo medico e di biologia e di chimica insomma una intelligenza artificiale in grado di progettare e ipotizzare la struttura delle proteine come vi ho detto in quella puntata questo aspetto delle proteine la struttura delle proteine è ad oggi uno dei più grandi come dire buchi neri di conoscenza della medicina e quindi se per a un profano e lo dico ovviamente in senso buono questa notizia può non suscitare nessun tipo di interesse in realtà questo è fondamentale per per tutti noi in realtà sia per chi studia la medicina la scienza la chimica la biochimica e tutte questi queste materie ma anche poi per l'utente finale che si ritroverà nel giro di 5 10 anni ad avere dei farmaci per malattie che oggi soltanto sogniamo di poter curare quindi fondamentale e questa intelligenza artificiale che è stata insomma attivata e messa a elaborare dati ha finalmente dato dei frutti anzi più che finalmente ha già dato dei frutti e dei frutti che assolutamente sono da far esplodere i cervelli perché ha fatto delle scoperte che se non so se nelle regole del premio nobel se tra le regole c'è appunto quella di non poter dare il premio nobel a un'intelligenza artificiale ma in questo caso dovremmo effettivamente dargliela perché è notizia di settimana scorsa se non mi sbaglio che questa intelligenza artificiale che si chiama deep mind se non sbaglio ha scoperto 70 proteine che non conoscevamo ora questa è la notizia ovviamente scommetto che non state né piangendo né urlando al miracolo ma se avete ascoltato le vecchie puntate di pen scienza un po sarete gasati perché insomma scoprire 70 proteine vuol dire rivoluzionare la medicina odierna vuol dire che giusto per farvi degli esempi per farvi capire quanto è gigantesca questa notizia fate conto che e vi prendo due diciamo due esempi palesi nel 1994 tale rod bell ha ottenuto il premio nobel per la medicina perché ha scoperto una proteina cioè ha scoperto la proteina g che è ovviamente una proteina fondamentale perché forse una delle proteine più importanti anche se non è si può fare una classifica di importanza però è una proteina diciamo fondamentale per la messaggistica insomma lo scambio di informazioni intracellulari e insomma per chi studia biologia o medicina questo è palese l'importanza della proteina g per chi invece come dicevo prima è un po profano rispetto a queste materie sappiate che questa è una cosa fondamentale cioè tramite questa scoperta abbiamo poi capito come vengono inviati segnali di ormoni di feedback positive e negative rispetto insomma un po tutto il corpo quindi una scoperta ovviamente devastante però questa è una proteina vi ricordo che sono state scoperte 70 proteine un altro esempio diciamo palese dell'importanza e della enormità di questa notizia è che probabilmente questo esempio vi risulterà più lampante rita levi montalcini una delle probabilmente più grandi menti che abbiamo avuto in questo secolo appunto a è famosa per aver ricevuto il premio nobel per la scoperta dell'ngf l'ngf è un fattore di crescita nervoso che appunto prima delle sue scoperte negli anni 50 non conoscevamo e indovinate un po è una proteina quindi ovviamente questo è risultato nella vittoria di un premio nobel che ovviamente immaginate che non danno proprio i primi che passano pensate che cosa vuol dire scoprire 70 proteine io mi aspetto che dopo questa scoperta insomma la medicina la biochimica l'ingegneria genetica tutte queste materie subiranno una accelerazione che fino ad oggi non si era mai vista cioè in confronto la scoperta della penicillina è una roba da far spallucce chiaramente la vittoria del premio nobel di cui adesso ne parlo come fosse un concorso di bellezza per cani ma ovviamente diciamo il riconoscimento del premio nobel è poi sostenuto da tutta un'altra serie di conseguenze rispetto a queste scoperte vengono fatte nel senso che ovviamente non basta scoprire una proteina ma bisogna capirne il funzionamento capire che cosa serve quella proteina cosa che ovviamente questa intelligenza artificiale non può o comunque al momento non ha fatto ma è sicuramente come dire una scoperta di massa che per quanto limitata perché adesso ogni proteina che è stata scoperta scoperta andrà indagata per capire che cosa fa effettivamente questa proteina ma è comunque di dimensioni galattiche oltretutto sono molto gasato per questa notizia perché non è l'unica scoperta che è stata fatta da appunto deep mind questa intelligenza artificiale oltre a appunto ipotizzare a caso e capire che queste varie proteine potevano essere esistenti all'interno del corpo e si sta appunto indagando oltre rispetto a questa scoperta ha scoperto un'altra roba fondamentale che ha diciamo ribaltato una delle credenze diciamo marmore della medicina ovvero che le proteine e parliamo sempre di proteine perché è su questo che è stato messo a lavorare questo grande cervellone vengono venivano o meglio fino a due settimane fa prodotte all'interno dei ribosomi e ribosomi per chi non lo sapesse sono degli organelli che stanno dentro le cellule ci sono cellule diverse nelle varie zone del corpo che hanno un diverso numero di ribosomi in base a quello che devono fare e all'interno del ribosoma vengono costruite queste proteine le proteine che ovviamente conosciamo che vengono utilizzate dal nostro corpo per compiere i più disparati compiti si è scoperto che fino appunto a due settimane fa vi stavo dicendo che la diciamo queste proteine venivano prodotte solo lì cioè il mitocon il ribosoma era proprio l'organello predisposto e deputato a produrre le proteine punto questo era un dogma della medicina fino a due settimane fa si è scoperto infatti che esistono degli altri organelli che non conoscevamo assolutamente praticamente dei pseudo ribosomi che sembrano produrre alcune di queste 70 proteine che sono state scoperte e questo è nuovamente una di quelle notizie che chi non tratta di biologia non gliene frega assolutamente niente non probabilmente questa notizia non gliene è anche arrivata ma che insomma è il woodstock della medicina cioè sta succedendo qualcosa stiamo vivendo la storia della medicina e fra dieci anni penseremo a una settimana fa come il momento in cui è cambiato tutto questo è la mia previsione quindi questa è una notizia fondamentale una notizia che mi ha eccitato a dismisura e quindi mi ha fatto anche tornare la voglia di insomma andare live ed è per questo un po che voglio raccontarvi queste cose quindi sicuramente ci saranno nuove scoperte nelle prossime settimane mi è appena arrivato tra l'altro un nuovo numero delle scienze che è molto ricco quindi probabilmente le prossime settimane saranno anche esse molto ricche di puntate di penscienza e molto diciamo nuove con un sacco di contenuti ma passiamo a un'altra delle notizie che c'è stato insomma nell'ultimo mesetto ovvero l'arrivo della variante di una nuova variante del covid parliamo della variante omicron non so chi dia questi nomi alle varianti del covid sinceramente non mi interessa neanche ma ho visto che tra le news piuttosto che parlare della insomma della variante in sé si è parlato più del fatto che si sono saltate alcune lettere che un po sti cazzi vogliamo dire ma comunque variante omicron che dai primi dati sembrava essere molto più spaventosa delle altre varianti del covid perché è più molto più infettiva in realtà ho visto notizie discordanti rispetto a questo dato nel senso che sembra effettivamente essere più infettivo rispetto alle altre varianti ma allo stesso tempo sembra essere anche meno dannoso per il corpo e quindi questo tra l'altro porta a una conseguenza che vi racconterò più tardi più avanti ma effettivamente non si sa se i dati rispetto a questa infettività siano effettivi nel senso che potrebbe al momento che siamo in un punto in un momento ormai sono passate una due settimane però siamo comunque nelle fasi iniziali di studio di questa variante e quindi i dati statistici potrebbero essere un po falsati dal insomma dal numero del campione e da alcuni altri bias dato che è una variante nata nel sud africa e quindi non siamo neanche certi al 100 per cento dei dati che sono stati raccolti quindi non allarmiamoci una diciamo questione che aveva un po preoccupato inizialmente virologi e epidemiologi era appunto il fatto che si era più questa variante dovrebbe essere più infettiva e che questa variante sarebbe nata da diverse mutazioni che insomma il virus avrebbe subito insomma e queste mutazioni sono particolarmente concentrate sulla proteina spike anche qui abbiamo parlato centomila volte della proteina spike e ormai spero che abbiate capito se seguite di più in scienza da un po' che la proteina spike è il bersaglio che utilizziamo per i nostri vaccini la proteina spike è in questo caso leggermente modificata ma si è visto da i dati che ormai stiamo raccogliendo come dicevo prima da un paio di settimane che comunque questo non va a rendere inefficace il vaccino specialmente la terza dose che si sta compiendo diciamo in queste settimane per chi di voi non l'avesse ancora fatta andate a prenotarvi e sembra appunto che i vaccini di cui già disponiamo siano ancora efficaci come vi dicevo non so se nella puntata scorsa in quella prima avere una modificazione rispetto alla proteina spike o rispetto a in generale altre proteine di riconoscimento che vengono usate da bersaglio per i nostri vaccini o alcuni farmaci monoclonali non è detto che una mutazione sia per forza come dire disastrosa dal punto di vista della dell'efficacia di un vaccino o di un farmaco questa mutazione è vero che un accumulo di numerosissime mutazioni potrebbe potrebbe dare non so come dire un una probabilità maggiore che appunto il vaccino non funzioni ma è anche vero che sempre come dicevamo nelle scorse settimane gli anticorpi non sono è vero che sono molto specifici ma hanno un certo grado di libertà che ci permettono comunque di tamponare queste piccole variazioni delle delle proteine bersaglio e quindi al momento sembra che dovremmo stare tranquilli insomma una cosa importante che vi volevo raccontare è che è bazzata in queste settimane appunto la notizia del fatto che questo questo nuovo covid sia più facilmente infettante quindi che si sparga anche più velocemente cosa che appunto al momento sembra essere vera ma che sia più debole e nel senso che ci provochi del delle malattie da covid molto più blande e quindi che lo spiralizzazione e la morte causata dalla variante omicron sia molto ridotta e questo potrebbe portarci un vantaggio si è parlata addirittura di diciamo il fattore che farà terminare la pandemia io chiaramente questo lo spero con tutto il cuore ma bisogna insomma attendere e vedere no dobbiamo aspettare e avere pazienza però qual è il senso il senso è che se avete ascoltato una puntata sulla poliomelite questo vi è molto chiaro il un un covid che ci prendiamo tutti e quindi diventiamo tutti positivi al covid ma che non ammazza nessuno sarebbe sostanzialmente la mana dal cielo perché ci darebbe la protezione anche da altre varianti ci darebbe la protezione e gli anticorpi da da covid quindi sostanzialmente avremmo effettivamente un una protezione di massa un non mi viene il termine adesso il l'immunità di gregge e chi comunque si infetta non morirebbe e quindi sarebbe veramente ottimo e unito insomma al vaccino e ai vari farmaci questo potrebbe effettivamente portare la pandemia a defluire a chiudersi non so darvi una risposta se effettivamente sarà così è ancora presto per dirlo e probabilmente non è ancora la variante giusta nel senso che si è visto che comunque causa delle ospedalizzazioni e quindi senza poi avere dei farmaci e un efficacia al 100 per cento del vaccino insomma chi può dirlo dobbiamo appunto vedere che cosa succede quindi questa era l'altra notizia rispetto a la variante omicron ma questo mi porta anche al terzo punto della nostra puntata che sono i farmaci anche di farmaci abbiamo parlato due settimane fa una roba del genere tre settimane fa e in particolare abbiamo abbiamo parlato del monopinavir che era un farmaco monoclonale era cioè è tuttora un farmaco monoclonale che è in via di sperimentazione di controllo da parte dell'aifa e dell'ema che devono sostanzialmente verificare la possibilità di utilizzare questo farmaco contro il coronavirus questa volta la notizia non è positiva nel senso che dai primi dati sembrava che questo farmaco fosse in grado tra l'altro farmaco come dicevo in puntata molto facile da prendere con pochi effetti collaterali quindi sarebbe stato veramente la mano dal cielo e in realtà ancora ad oggi compresa questa notizia che sto per dirvi è comunque una ottima arma che abbiamo contro il covid o che avremo se chiaramente non saltano fuori insomma effetti collaterali particolari la notizia è che questa efficacia è ridotta al 30 per cento quindi o meglio la riduzione dell'ospedalizzazione e di morti da covid con l'utilizzo di questo farmaco sembra essere appunto ridotta fino al 30 per cento rispetto al 50 per cento di cui si era parlato inizialmente quindi questo è un po una notizia appunto come dicevo prima negativa perché si sperava ci fosse un'efficacia maggiore ma tant'è anche se fosse il 30 per cento comunque è una buona percentuale quindi la sperimentazione ovviamente sta andando avanti e insomma speriamo che ci porti dei buoni risultati in futuro bevo un sorso d'acqua e vi parlo delle ultime due cosine poi chiudiamo la puntata veramente molto in fretta oggi siamo a 22 minuti incredibile vi volevo parlare un po di di penscienza molto brevemente appunto mi è arrivato un messaggio l'altro giorno su facebook di riccardo che approfitto nuovamente per ringraziarlo che mi ha fatto fare alcuni ragionamenti importanti rispetto a di penscienza nel senso che lui aveva alcuni dubbi rispetto alla comunicazione che si è fatta del covid e mi proponeva anche di creare un dibattito insomma con voi e in live anche con un'altra persona cosa che vi ho già detto in realtà in altre puntate diventerebbe complicato ci sono diverse problematiche nell'invitare qualcuno nel podcast qualcuno che poi oltretutto non si conosce e quindi insomma questa è un po una questione che devo risolvere da me ma parlava del fatto che insomma ci sono state diverse notizie discordanti rispetto in particolare alla pandemia e al covid che hanno favorito in maniera importante anche la nascita e la crescita del sentimento no vax e questo l'avevo detto anch'io in una puntata più volte le istituzioni sono contraddette rispetto a quanto è stata appunto l'inizio del covid e della pandemia è stato sicuramente un errore un errore però che si poteva evitare ma nel momento in cui cioè io immagino la situazione nel quale si sono trovati le persone deputate a gestire questa crisi sanitaria sostanzialmente quando la popolazione ti chiede delle cose tu qualcosa devi rispondere e quindi da un lato è vero hanno sbagliato a dire a fare delle affermazioni che poi sono state contraddette dall'altra parte un po li capisco nel senso che messo nei loro panni non so se avrei saputo fare di meglio tenersi sempre su al momento non sappiamo o al momento non posso dirvi niente lo posso fare io studio in scienza perché perché sostanzialmente non conto nulla non lo può fare insomma una persona di un certo grado politico che si occupa della gestione di questa pandemia e qualcosa deve dire specialmente se hai un'italia intera in lockdown che sta aspettando che tu sostanzialmente gli dica qualcosa quindi non voglio sostanzialmente giustificare gli errori che sono stati fatti ma posso capirli insomma e devo dire che poi tra gli errori grossonali che sono stati fatti anche all'estero l'italia è stata anche abbastanza brava rispetto a questo rispetto a questo aspetto e poi mi faceva notare che questa insomma questa contraddizione potrei averla insinuata anch'io lui mi faceva l'esempio del vaccino della polio che mi dice tu sesso dici che la prima versione del vaccino della polio ha comportato il suicidio del suo ideatore perché diversi bambini sono morti certo che sì perché se io vi sto facendo una puntata rispetto alla storia della medicina rispetto alla storia di una malattia cosa che ho risposto anche ovviamente a riccardo ma voglio condividerla anche con voi sarebbe insomma omettere queste informazioni omettere che c'è stato un errore omettere anche che oggi con il covid ci siano stati degli errori è una frode cioè è mentire non è soltanto omettere un'informazione perché questo messaggio di riccardo era un po come dire volto al fatto che è ovvio che non riusciremo mai a convertire i novax se diventano palesi questi errori perché poi le persone perdono fiducia sia in dipenscienza piuttosto che nelle istituzioni rispetto al vaccino io però non sono qui a insomma a prendervi in giro io le cose che so ve le dico le cose che non so vi dico non lo so e se ci sono stati degli errori storici importanti io ve li racconto perché non dovrei sta al singolo riuscire a metabolizzare queste informazioni e io non posso omettere delle informazioni del genere perché forse un giorno domani un novax potrebbe sentirmi e fraintendere quello che io vi ho raccontato purtroppo non non posso farci niente ognuno pensa con la sua testa ognuno insomma decide per sé io vi dico quello che è stato se vi racconto la storia della malattia vi racconto la vera storia della malattia e questo è fondamentale per me perché ne va della mia credibilità e è vero che non sono nessuno è vero che dipenscienza non è Dario Bressanini che parla e che ha un seguito di centinaia di migliaia di persone però chiaramente io devo seguire la strada giusta se voglio puntare a convincere qualcuno a vaccinarsi perché credo che sia la scelta giusta se voglio puntare a spiegare qualcosa della medicina e voglio spiegare perché ci si deve fidare del proprio medico piuttosto che di un cialtrone insomma la trasparenza in questo caso è fondamentale e un'altra questione importante che riccardo mi solleva è che queste puntate purtroppo sono poco partecipate nel senso che sarebbe secondo lui e in realtà anche secondo me molto più efficace se dipenscienza fosse tramutato in un dibattito scientifico e in realtà io sono d'accordo nel senso che mi piacerebbe avere un dibattito aperto specialmente rispetto a le questioni che possono creare un dibattito come il covid alla fine sono le puntate che abbiamo fatto rispetto al covid sono molto a senso unico nel senso che io vi racconto qualcosa e difficilmente ci sono dei messaggi contraddittori anche in chat e quel poco che ci sono poi non vanno molto per la lunga questo è spiegato dal fatto a che dipenscienza non ha il grande pubblico che ha dipencrimini per esempio quindi in live non siamo così tanti da creare delle insomma dei dibattiti così ampi so per certo che ci sono delle persone che mi ascoltano perché lo vedo dalle statistiche probabilmente e questo è in realtà un problema che vorrei riuscire a risolvere sono tutte persone che la pensano come me nel senso sono tutte persone che credono nella scienza che credono nella medicina difficilmente un novax è appassionato di dipenscienza ovviamente cioè io lo capisco è difficile rompere quella barriera se una persona pensa che io sia un cretino perché vi suggerisco di vaccinarsi è veramente molto difficile rompere quella barriera anche perché non c'è una comunicazione tra noi due la persona che pensa che io sia un cretino perché vi suggerisco di vaccinarvi ve lo suggerisco normalmente perché vi ribadisco che la terza dose sembra insomma dato dei dati importanti rispetto alla protezione anche da omicron se questa persona in questo momento chiude la puntata è una persona che non ha avuto uno scambio di opinioni con me ha ascoltato la mia opinione e non mi ha dato la sua e quindi è un utente che ovviamente ho perso questo si potrebbe come diceva lui risolvere nel momento in cui creiamo un dibattito in live quindi magari invitando qualcuno di voi in appunto in live a fare la puntata con me la realtà di fatti è che questo è molto difficile è molto difficile sia perché in questo periodo non ci si può sostanzialmente incontrare probabilmente andremo in lockdown tra qualche tempo non mi sbilancio sulla data ma secondo me per febbraio saremo in lockdown quindi insomma vedere di persona degli sconosciuti non è il massimo in questo momento secondo punto importante la live non è facile da fare ora sono 31 minuti che parlo e anche per me è difficoltoso figurati per qualcuno che non l'ha mai fatto quindi è qualcosa che va tenuto in conto se poi l'obiettivo di ripenscienza è sì fare informazione ma fare anche in parte intrattenimento non posso mantenere insomma una live non posso creare una puntata che sia magari anche interessante dal punto di vista come dire delle informazioni che vengono dette ma di una noia mortale quindi è anche una questione da tenere in conto e soprattutto non so chi è l'altra persona nel senso che avrei veramente pochi problemi a invitare qualche mio collega di università piuttosto che qualche persona che conosco e che so come pensa che so come parla che so che non mi bestemmia durante la live che insomma non mi dia problemi da quel punto di vista e che possa magari pensarla al contrario di me rispetto a un certo argomento e che quindi si crei questo dibattito sarebbe veramente bello il problema è che questa persona non ce l'ho anche perché il podcast lo faccio con palla che come sapete è ascientifico in tutto quindi chiaramente anche invitare palla non sarebbe utile da questo punto di vista quindi se l'unica soluzione che io al momento possiedo è la chat nel senso che se qualcuno mi scrive che non la pensa come me o che vuole fare un dibattito o ha dei commenti rispetto alla puntata io ben volentieri leggo il commento e lo comunico anche durante la live ed è anche l'unico modo che ho in questo momento per filtrare il troll il novax rispetto a quello che vuole fare appunto un commento invece costruttivo quindi mi piacerebbe che queste puntate fossero più partecipate sicuramente mi piacerebbe trovare una soluzione sia a la rottura di barriera comunicativa che si ha con il novax e con le persone che non credono che in questo momento la scienza sia l'unico nostro appiglio rispetto al covid e alla pandemia quindi se avete dei consigli rispetto a questo sicuramente scrivetemeli in chat su twitch su instagram dove vi pare e poi mi piacerebbe in effetti rinnovare un po' il format di pen scienza per rendere un po' più accattivante e quindi se avete le idee in questo senso sicuramente fatemene sapere anche quelle perché sono molto interessato e sono tutto recchi quindi se volete insomma darmi una mano a condividere di pen scienza mi raccomando fate una condivisione rispetto nei vostri social quindi su instagram su facebook un po' dove vi pare raccontate agli amici che avete questo fantastico podcast di medicina che vi spiega un sacco di cose interessanti io spero che le news che vi ho raccontato in questa puntata siano state altrettanto gasanti come lo sono state per me nelle scorse settimane e con questo direi che posso chiudere la puntata come dicevo una puntata un po' più breve ma spero molto succosa ci rivediamo anzi ci risentiamo la prossima settimana con una fantastica live di pen scienza ciao